Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. Mister Leonardo Bittetto, un 5 a 1 della Cavesia Manfredonia, è stato fatto il necessario. Non ci è servito per arrivare al primo posto, però comunque ci siamo caricati in vista del prosieguo con gli spareggi. L'obiettivo era questo, l'ho detto anche in passato, indipendentemente dal risultato finale, anche se in queste ultime due domeniche c'era un barlume di speranza, anche perché la matematica non ci vedeva definitivamente al secondo posto, però ugualmente ci dobbiamo preparare e ci dobbiamo preparare. Anche domenica prossima ci sarà una partita che sarà tutta di preparazione, ma non di preparazione mentale, perché non vogliamo assolutamente non farci trovare pronti per le ultime due dei playoff. Cos'è senso dare un commento a questa partita? È stata una partita con molte azioni da gol, soprattutto nel primo tempo, dopo aver subito il gol del pareggio siamo stati bravissimi a riportarci subito all'attacco e a far rispettare il tasso tecnico maggiore. No, ma quello che ho detto prima, anche contro il Manfredonia sapevamo di incontrare una squadra ovviamente già retrocessa, poi infoltita anche da diversi giovani, però ugualmente lo spirito il nostro deve essere questo. Soprattutto nel primo tempo è stata una partita dove si è vista una cavese forte e brillante. Alessandro Fabbro, difensore centrale di una cavese che quest'oggi ha vinto. Domenica prossima c'è ancora una partita in campionato con la Frattese, però chiaramente siamo già certi di disputare i playoff e conosciamo anche l'avversario che sarà il Cerignola. Che partita sarà? Non sarà una partita come sarebbe stata con le altre, è una partita che ci deve vedere protagonisti, siamo in casa, abbiamo due partite in casa e dobbiamo tirar fuori tutto il possibile per non rimpiangere nulla, per arrivare e sentirci anche soddisfatti di quello che poi è stato il cammino e quindi ora che abbiamo questi playoff da giocare dobbiamo farli al meglio, dobbiamo per forza vincere e poi nel calcio ci sta tutto, però non importa chi affronteremo, l'importante è come lo affronteremo.